buongiorno a tutti oggi siamo a bari palese in una posizione centralissima e ben servita nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici vendiamo un'interessante villa indipendente di ampie dimensioni su due livelli con accessi indipendenti al piano terra abbiamo il primo appartamento così composto l'ingresso ci accompagna in una cucina abitabile successivamente troviamo un salone doppio ed ancora un studio dal corridoio accediamo alla zona notte trovando così tre camere da letto di cui una con bagno in stanza un grande ripostiglio e un bagno di servizio attraversando una scala esterna accediamo al primo piano giungendo su un terrazzo coperto che si abbraccia sul patio esterno e dà accesso ad un doppio salone con cammino ed una cucina abitabile proseguendo nel corridoio troviamo un vano letto matrimoniale con bagno e vasca idromassaggio in stanza ancora tre vani letto molto ampi ed illuminati da finestre con affaccio sul giardino esterno ed una sala da bagno con doccia promettica completano la proprietà un grande patio esterno parzialmente piantumato questa soluzione potrebbe essere ideale per due nuclei familiari contattateci subito o visitate il nostro sito web www.rubinocase.com per altre fantastiche opportunità ciao alla prossima